Cari volontari dell'AMPAS, non potendo essere qui oggi con voi, voglio mandarvi un saluto, un augurio affinché questa vostra assemblea congressuale possa essere ricca di entusiasmo, di impegno e possa anche aiutarvi a guardare lontano. In particolare io ci tengo a portare un ringraziamento alla vostra organizzazione perché sta offrendo un contributo straordinario al forum del terzo settore attraverso l'impegno del vostro Presidente che oltre a componente del coordinamento è responsabile della consulta del volontariato per il suo forum e in questo modo ci aiuta a crescere nella consapevolezza di un terzo settore che è coeso e che è forte e che è capace di una progettualità anche politica. L'invito ed è anche l'augurio che faccio alla vostra grande organizzazione, a ciascuno di voi è di saper in questo momento andare a portare la vostra azione solidale nel Paese ma insieme anche a far comprendere che attraverso questa noi cambiamo le istituzioni, possiamo cambiare anche il volto del Paese dando sempre di più significato allo stare insieme come comunità nazionale. Grazie. 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 Grazie.